Allan Kardec e la medianità successiva Gli amici di Evolvenza pubblicano questo studio di Alberto Di Marco e si dichiarano completamente d'accordo con Alberto. Sussiste la questione non certo trascurabile relativa alla fenomenologia medianica posteriore a quella avvenuta ai tempi di Allan Kardec. Di ciò stranamente, in genere, non si parla, anzi, sembra addirittura un argomento del tutto ignorato in diversi libri che trattano di spiritismo, nonché dei vari siti spiritici presenti in internet. Ci sembra quindi più che opportuno sollevare tale problema cercando di darne un sintetico inquadramento assieme ad alcune considerazioni. In Italia si ha la fortuna, per non dire il privilegio, di disporre di un insegnamento notevole, proveniente dall'altra dimensione, grazie ad alcune medianità di alto livello quali il cerchio Firenze 77, il cerchio K di Roma, l'entità A di Napoli, il cerchio Ifior di Genova, il cerchio NAF di Roma, il cerchio Esseno di Roma, il cerchio Marina di Milano e altre ancora. In questi cerchi medianici non si sono manifestate soltanto delle comuni personalità trapassate, ma entità spiritualmente evolute che vengono giustamente denominate maestri, anche se queste non desiderano venga attribuito loro un tale titolo e ne spiegano i motivi. Guida psichica. Perché non abbiamo la presunzione di insegnare come fanno invece molti sedicenti maestri in terra? Perché sono sedicenti maestri figli, sappiatelo, nessuno è in grado di insegnarvi qualcosa se non voi stessi. Perciò, figli cari, noi possiamo parlarvi come può parlarvi un amico e vogliamo essere per voi degli amici che voi potete anche non ascoltare più. Prima vi parlavamo di insegnamento, ora non abbiamo nemmeno la presunzione di insegnarvi. Sì, parlavamo di insegnamento prima e non sempre tuttavia, perché così voi volevate. Volevamo apparirvi come dei maestri ed a volte ci siamo serviti di questa parola insegnamento parlando di ciò che noi vi dicevamo. Nota, ci si riferisce ad alcune manifestazioni medianiche precedenti, esempio, lo spiritismo cardecchiano, Cerchio medianico K, verso la scintilla, dal tempo all'eterno, edizioni mediterranee, Roma 1990, pagina 191. Continua.